Ben trovati a casa Rinaldi, altro appuntamento con la musica italiana e oggi abbiamo una giovane band con noi a disposizione, la voce dei clinker. Giulio, ciao! Ciao! Come stai? Bene, tutto bene. Bene, perfetto. Allora, Giulio, questo giovane e bello ragazzo, Giulio Maggiolino Fabri, è la voce dei clinker. Clinker, la volpe e l'uva è il loro nuovo singolo. Vedete dietro di me quello che è l'immagine della loro cover, la volpe e l'uva. La prima cosa che viene da pensare è la famosa favola, no? Che la volpe dice all'uva, sei acerva, non sei buona, perché? Perché non ci arrivo e quindi è un po' questa la storia che noi ricordiamo. I clinker, intanto ricordiamo che sono una giovane band forlivese, composta da questi giovani ragazzi, Giulio Fabri alla voce, Francesco Dalmonte al basso, Kevin Raggi alla chitarra e Riccardo Ravaioli alla batteria. Una canzone, la volpe e l'uva è essenziale, leggo, energica, un po' come la vostra età, siete argento vivo, no? Sì, ci proviamo, sì. E il mood della band è quello che voi ci fate conoscere. Tre strumenti, nessun orpello, ironia ed energia. Quanta ironia ed energia mettete nella vostra musica, Giulio? Beh, cerchiamo di metterci tutta quella che abbiamo, tutta quella disponibile. Negli anni ci siamo accorti che è la cosa che ci viene, che ci diverte di più e che ci viene meglio comunque essere autoironici e cercare sempre di essere il più leggeri possibile, genuini anche, esatto. Genuini anche perché forlivesi, romagnoli, non si può non essere genuini, no? Esatto, esatto, ce l'abbiamo nel sangue. Siete un po' ruffiani, dite la verità, piacete a tutti. Sì, è vero. Beh, ci proviamo. Comunque sicuramente, appunto, essendo così, anche prendendoci in giro da soli, dai, siamo immuni alle critiche degli altri. Bene, fatevele scivolare addosso. Sì, sì. Cerchiamo di lavorare, cerchiamo di lavorare bene. Il vostro genere voi lo definite funk, punk. Funk per le influenze degli artisti con i quali vi siete formati e punk per l'attitudine e la schiettezza dei testi, giusto? Sì, i nostri brani comunque sono sempre, come ho detto, abbastanza leggeri e colorati, però cerchiamo sempre di trasmettere quello che è il nostro punto di vista e poi magari, appunto, la canzone risulta feliciona e sempliciona, però comunque rispecchia alcuni aspetti della nostra vita, esatto, che magari invece sono un po' il contrario, come la volpe l'uva, che rispecchia abbastanza il nostro stato di incertezza, ma guardo sempre la copertina e mi ci vedo io lì nel mezzo, che dico sempre ce la faccio, non ce la faccio e siamo sempre così, lo viviamo un po' tutti i giorni, forse anche ognuno di noi per il lavoro, per qualsiasi aspetto della nostra vita, però appunto cerchiamo sempre di farlo vedere in modo felice. Schietto e felice, questo è vero, facilone, come dici tu, le cose sono schiette, sembrano magari facilone, però c'è anche la profondità nel testo della canzone che voi ci fate ascoltare. Siete una band molto giovane, le vostre canzoni, come diciamo, sembrano ironiche, apparentemente ironiche, colorate, le canzoni sono colorate perché possono essere colorate, perché danno gioia quando le ascoltiamo e quindi è come guardare un arcobaleno dopo una giornata di pioggia e ritorna il sereno e quindi i colori voi ce li fate vedere ascoltando le vostre canzoni. Ma io ti chiedo, l'uva è acerba o è matura? Eh, quello non si sa, no, nel senso bisogna sempre pensare che sia matura perché è quello che ti fa, ti spinge a provarci alla fine perché se pensi che sia acerba non ci provi neanche, quel salto non lo fai, quindi non lo sai, magari cadi, magari arrivi dall'altra parte, però ci devi provare con tutte le tue forze. Questo sempre, bisogna sempre provarci. Da quanti anni è che siete insieme a lavorare? Sono ormai sei anni che suoniamo noi quattro insieme, quindi dai, ci conosciamo abbastanza bene e sono un po' gli anni. Chi è che ha sempre l'ultima parola? Ma cerchiamo di essere molto democratici e c'è sempre, sappiamo che c'è sempre qualcuno che non è d'accordo con gli altri tre e quindi è sempre difficile prendere le decisioni, però dai, la maggioranza vince nella nostra band. La maggioranza vince, però siete quattro, a volte la maggioranza si prende di più con il numero disparo, no? Non è che c'è un quinto clinker che mette bocca, che vi tiene tutti quanti per le redini che siete giovani, quindi vi deve un po' attirare perché altrimenti voi impazzite come i cavalli. Non abbiamo mai avuto un quinto clinker, quando sono situazioni di parità ce la giochiamo a freccette, facciamo squadre due a due e chi vince prende la decisione. Mi pare giusto, molto diplomatico. Voi nel 2019 avete partecipato alla 32esima edizione di Sanremo Rock e siete arrivati alle finali che si sono tenute al Teatro Ariston, che emozione c'è stata? Beh, è stata una bella emozione perché comunque, come dicevo prima, noi ci prendiamo sempre in giro e ci consideriamo molto poco, ci sottovalutiamo tanto, quindi pensavamo di non passare neanche le prime selezioni, invece siamo stati dai comunque un minimo apprezzati. È stata una bella emozione, una bellissima esperienza per una band come la nostra. Bene, questa è una cosa che ci fa piacere. Ma tua mamma, ecco, perché poi così giovani, le mamme, i genitori che cosa pensano? Che cosa vi dicono? Mia mamma è… sì, sì, no, fanno i tipi per noi, anche se molto spesso per spronarci sono loro che dicono che non ce la faremo mai. Sì, però alla fine invece sono molto… i nostri genitori ci supportano tanto, mia mamma per… da quando è uscita la volpe l'uva tutte le sere l'ascolta in loop, quindi credo le piazze, dai. Bene, quindi hai imparato a memoria, potrebbe venire a fare il corista. Assolutamente, sì. Il 24 maggio dell'anno scorso avete pubblicato il singolo intitolato Pietra, mentre il 24 giugno dello stesso anno è uscito il vostro primo album, Degenerazione Generazionale. Un gioco di parole, degenerazione. Cioè, allora, una generazione che sta degenerando, la nostra, la nostra quale generazione? Ma, secondo me, come tutte le canzoni dipende dai punti di vista, possiamo… possiamo vederlo un po' per tutte le generazioni, noi la vediamo dal nostro punto di vista, quindi la nostra generazione, però credo che ognuno di noi si possa rivedere, insomma, come per la volpe l'uva, esatto, in questa situazione. Quello è stato l'ultimo album, prima della collaborazione con le stanze dischi, con cui abbiamo fatto la volpe l'uva, che comunque è una casa discografica, per noi è un gradino molto importante, è stato un gradino molto importante e lo sarà, perché speriamo che questa collaborazione continui. Sì, certo, anche perché quando c'è un disco in mano le cose si fanno serie, no? Quindi magari la mamma se hai fatto una giornata prima ti aveva detto, ma trovati un lavoro concreto, un lavoro stabile, invece è uscito il primo disco e dici, oh però, magari… Sì, come dice il nostro caro Davide Bosio, il nostro produttore, dice, anche la musica è un lavoro e ci sono tantissimi trucchetti, tantissime skills che se non lo fai di lavoro è difficile impararlo, è difficile arrivarci, quindi anche la musica, comunque il lavoro, noi ci stiamo impegnando tanto, stiamo lavorando tantissimo, quindi speriamo di poter continuare con loro e speriamo di poter crescere. Ma certo, assolutamente sì. Quest'estate che cosa vi aspetta? Dove andrete a presentare la volpe l'uva? Quest'estate ancora non possiamo dire niente, abbiamo delle date molto interessanti, però non possiamo ancora spoilerare nulla, però insomma lo faremo sapere sui nostri social in giro. Bene, dove vi possiamo trovare con i social? Dai delle dritte, soprattutto alle ragazzine, alle ragazze, perché io vedo te, sei un bellissimo giovane, gli altri altrettanto, quindi saranno sicuramente lì... Gli altri più belli di me, gli altri tutti più belli di me. Quattro giovani, ricordavo, quattro giovani clinker, quindi... Ma perché questo nome che non te l'ho chiesto prima, clinker? Clinker perché, come dico sempre, ognuno di noi, ogni persona ha, secondo me, un talento, e il talento di mio cugino, del bassista, di Francesco, credo, sono convintissimo che sia quello di trovare i nomi alle band, in tutte le band in cui abbiamo suonato insieme lui trovava sempre il nome, e quindi un giorno stava facendo lezione a scuola, gli hanno detto clinker, che è il nome di una mattonella economica, molto economica, e ha detto bellissimo, potrebbe essere il nome di una band, appena abbiamo fondato quelli che adesso sono i clinker, lui ha dato il nome. E quindi voi sareste una mattonella molto economica, e potrebbe diventare il raggiungimento, chissà di che cosa di importante. Mi piace questa storia, veramente Giulio, fai complimenti a tuo cugino, davvero, perché è geniale, per davvero, non è il solito nome scontato, che magari è un acronimo, oppure tanti, tanti cosini. Allora, i social, eravamo rimasti sui social, dove vi possono trovare le ragazze, e anche i ragazzi, tutti quelli che apprezzano la nostra musica? Beh, sicuramente Instagram e Facebook, e quelli sono i principali su cui lavoriamo, cercando le pagine clinker, o clinker official, e poi YouTube, il nostro canale di YouTube, Spotify, e da lì possono, insomma, sentire tutti i nostri brani. Ecco, Spotify, ricordiamo che possiamo farci la nostra playlist con la musica che ci piace, mettiamoci la musica dei clinker, lavoriamo, ascoltiamo, viaggiamo, ascoltiamoli, la musica italiana sempre, clinker con la K. E quindi, Giulio, grazie per essere stato con noi, un abbraccio, un bocca al lupo. Grazie a te, grazie a voi, grazie. Ciao, ciao. Ciao.